Una materia di cui i più farebbero fatica a darne una definizione. Eppure la filologia ha una sua applicazione davvero attuale. La materia che si pone come obiettivo quello di riconoscere le cose nella loro concretezza e fisicità può essere un antidoto alle sempre più dileganti fake news, le bufale. La filologia indaga il corpo fisico dei testi, ma a partire dal corpo fisico dei testi indaga il senso del mondo nella sua concretezza. Non discorsi a bambera, come purtroppo si fanno tanto nella comunicazione attuale, come ormai stanno dominando le fake news. Basta che qualcuno si inventa qualcosa e viene preso per oro colato. Invece la comunicazione che ci circonda va guardata con occhi aperti, con occhi sgranati, ma questi occhi possono essere aperti soltanto se c'è una coscienza culturale, un impegno critico. Per cui non si tratta di difendere soltanto lo specialismo critico, ma a partire dalla critica anche nella sua specificità farne un modello di conoscenza civile del mondo.